Ragazzi, lo sapete cos'è la notte delle chitarre? È un concerto, un concerto bellissimo. C'è una band di cui faccio parte da 30 anni, si chiama Custodi e Cautelari. Ciao a tutti, sono Luca Colombo, chitarrista. Sono tra gli ospiti di questa bellissima serata che si prospetta con grandi contenuti chitarristici. Sono sempre onoratissimo di essere qua. Questa bellissima cornice con un pubblico che è sempre caloroso. Vi aspettiamo, siamo in tanti, abbiamo voglia di divertirci per una notte raw.